oggi scazzo ecologico guardate dove sono questo è il parco di amboseli ci sono centinaia di elefanti tutto intorno a me quella quella dietro una palude e ci sono gli elefanti belli tranquilli si fanno il loro bagnetto mangiano l'erba che cresce nella palude bevono acqua la mia guida mi ha appena detto che un elefante beve almeno 100 litri d'acqua al giorno quindi beve un bel po questa è un'altra macchina dei turisti che stanno facendo le foto agli elefanti ma non basta perché poi ti giri subito dietro non so se le vedete bene ma ci sono centinaia di zebre che sono lì belle tranquille si fanno gli affari loro mangiano una macchina che se ne sta andando è una roba non sembra vero è veramente pazzesco il kenia è qualcosa di irreale